No, è il giornalista! Ma che fa il giornalista? Non lo so! No, ma non lo so! Non si sapevo che qua si fa attività politica! Allora, non lo so! Adesso ci ricordate che se vanno i piccoli! E' la rossa! E' la rossa! Oh, quando ti fanno la cucina? E' la rossa!